A questo c'è un'altra cosa. L'introfi è una gara di prestazione di arte muraria che tende a valorizzare la professionalità dei nostri operai edili sul settore. Dall'anno prossimo cercheremo di portarla in piazza e di condividerla con la città e con noi tutti. Un momento di dimostrazione di un lavoro, quello dei muratori, quello di Dile, che è stato fortemente svalorizzato in questo paese. Invece è uno dei punti centrali del paese, costruire una casa, costruire delle strutture, è una cosa centrale per un paese democratico e civile. Sicuramente è un'iniziativa importantissima che crea le condizioni per un verso di una visibilità che questa categoria probabilmente in questi ultimi tempi, per diverse motivazioni, diciamo così, è stata accantonata. Per altro verso dà un segnale non indifferente alle istituzioni, alle forze politiche, all'intera città, che qui c'è una qualità professionale che è sicuramente funzionale a quello che ci si aspetti arrivi. La crisi c'è, è profonda, i lavori non sono tanti, ma noi siamo sempre fiduciosi che possa arrivare il momento in cui queste professionalità di grande livello possano fermarsi nel mercato del lavoro.